Prima visita, seppur di poche ore, di un capo di Stato estero nella città di Gaza dal 2007, è arrivato alle biro del Qatar lo sceico Hamad bin Khalifa Altani, accolto dal capo del governo locale Ismail Anie. Gaza vuole uscire così dall'isolamento in cui la costringono l'assedio israeliano e i pessimi rapporti di Hamas che la governa con la comunità internazionale. Altani arriva per porre la prima pietra di un nuovo quartiere per mille famiglie palestinesi. Tutto questo in un momento di grande tensione. Ieri due miliziani palestinesi sono rimasti uccisi dal fuoco di Israele in seguito al lancio di razzi e di colpi di mortaio verso il Negev e stamattina un ordigno ha ferito al confine un ufficiale israeliano, innescando una incursione lampo di qualche blindato dallo Stato ebraico.